A Irano ce n'è una, a Ferrazzano, a Campobasso ce ne sono due, un'altra è sopra a Boiano, a Civitale di Boiano, un'altra ce n'è a Cerce Maggiore. Su tutte le cime delle colline c'erano queste cinte fortificate che si potevano vedere da distanza. Perché? Perché controllavano il territorio sottostante. Quando c'erano le guerre o dei problemi, anche la popolazione che abitava nelle valli si arriva su e ci si arroccava di un'intervista. Se no ci passavano i fattori o addirittura quando c'erano le guerre si studiavano anche gli eserciti. Quindi la prima cosa importante è questa, che in età sannitica, diciamo IV secolo, III secolo a.C., già qui su a mille metri c'è una cinta sannitica. Poi in tutta questa zona, e io non mi sono messa a casa su questo blocco e i signori non si sono studiati a casa su questi blocchi, tutti questi blocchi sono materiale antico. In tutta questa zona, adesso vi farò vedere girando un po' di cose, è pieno di materiale antico, sannitico, romano, medievale, cammin facendo. Questa per esempio, che cos'è? È un blocco squadrato, vedete che qui l'ho pulito c'era la terra. Che cos'è? È il cardine di una porta, per esempio, antica. Ci sono tale quale lattiria, sepira. Oppure questi sono tutti blocchi squadrati. Questo qua, venite, facciamo il giro e poi facciamo lo stacchetto. No, 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 no.